Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come scaricare i video da youtube in alta definizione senza l'ausilio di programmi esterni, tutto sarà fatto tramite web, allora innanzitutto su youtube dovete scegliere il video che volete scaricare, bene, intanto vi stoppiamo, poi ci colleghiamo intanto su capvid.com, ok, bene, ora andiamo qui nel video di youtube e copiamo il link qua su, facciamo tasto destro e lo copiamo, andiamo di qua su capvid e tasto destro e incolla, clicchiamo sul download, ancora sta processando il link, ecco, ora qui ci compariranno diversi formati, in 3GP e in FLV, le 3GP sono i formati per i cellulari, c'è low quality, cioè bassa, qualità, media qualità e alta qualità, mentre se voi lo volete usare per il computer vi consiglio altamente dello mp4 in alta definizione, cliccate, fate salva file, mettete ok e scegliete la destinazione, fatto questo voi avrete salvato sul vostro computer il video che volevate scaricare e questo è stato molto facile senza l'ausilio di software esterni, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a iscrivervi al canale video review pc e ci vediamo al prossimo tutorial, ciao ragazzi